Non vuole essere inquadrata, immagino, ma io richiamo molto questo. Sono quindi le firme di quale stagione? Questa. Me le traduce? Ovviamente fatico arrivano. Anche lei fatico, eh? Costa, Filippo Costa, Mister, Semplici, Biancovici, Antenucci, Viviano, Bonifasti. Sì. Meramente. Questo vale da solo il prezzo del mio viaggio da Reggio Emilia. Come si chiama? Giulia. Quanti anni hai? 19. Che lavoro fa? Studio. Niente viso? No. No, ormai sono abitato. Mi dica che è timida e va in giro così. Giulia, ci sono tutti? Sì, manca solo Faresso. Dove lo trova questo? Ce l'hanno date in un bar. Dov'è? Come si chiama? Ah, Fiesso Umbertiano. Il bar Girasola, Fiesso Umbertiano. Come si chiama? Il bar Girasola, Fiesso Umbertiano. Che è una località? Sì. Dov'è? Dopo Santa Maria. Distante da qua, ad esempio? 20 minuti. No, non dietro. Veramente spedito. Questo, Giulia, è il pubblico medio. Faccio vedere da lontano. Ci sono persone con gli occhiali. Questo è il pubblico medio di questo tipo di... No, c'è di più. Sì? Perché ormai la salvezza è arrivata. Che emozione è il terzo anno di fila? È abbonata? Sì. Dove? Ah, in curva. C'è gente doveva andare in curva. Bello, bello, bello. Chi è il giocatore più amato, Giulia, dalla curva? Dalla tifoseria. Tanto tiene quanto? 10.000? Sì. È abbonato in te? Cioè, c'è solo un settore ospiti. I biglietti... Cioè, per i ferraresi tutti i biglietti sono esauriti, no? La maggior parte sì. E chi è il più amato? Buono e falsi anche per la bellezza. Sì. E poi, il terzo? Simic. Ma ha giocato Simic? Grazie. Chi è il... Chi vorreste rivedere di più la prossima stagione fra tutti i bianco-celesti? O bianco-azzurri? Bianco-azzurri. Lazzari, ma ci lascia. Ah, e poi? Buoni fatti. Tante nuci sopra. Li stessi? Sì. Grazie. Mi racconta col suo viso il mestiere di... No, no, questa, questa. Sa che io racconto più. È meglio non impararlo. Quante distanze? Sono stato una notte sempre a vetroresia. Quante distanze? Da qui? Eh. Qua c'è un mare. Qualdo, quelle zone lì? No, no. So che non è lontanissimo, però di notte c'è meno traffico. Venti minuti? Non ci sono, vero, padre o figlio? Il papà io credo di non aver mai visto una foto. Ma non sono neanche qua, se no gli avrei visto. No, mi sarebbe piaciuto, no, è che è quasi sempre a porta chiusa. Poi no, ho letto un bel cartello dove c'è scritto che credo valga anche per i tifosi che non si possono fare video. No, mi piaceva farlo vuoto, capisci? Cioè vuoto, un campo vuoto. Sono andato a Novarello ad esempio e... Beh, è bello. Compro un cos'è, lo sai? Non è un marchio che non conosce. No, io non lo conoscevo niente. Sto occupando delle strutture lì. Stendo le strutture... Secondo lei, se vado adesso a Rovigo, al campo, lo trovo aperto, ma nei microvieri... Quanto è distante... Vuoi che il telefono custode? Ah, magari mi piace. Non ce l'ho il numero. Eh, so che scherzato. Quanto è distante? 20 minuti, il campo di Rovigo. Al massimo lo faccio da fuori. No, perché sono coberto, io faccio di notte. Il problema è che di notte c'è buio. Poi è ristretto. Quando escono è ristretto i giocatori. Prendono firme, foto e basta. No, no, ma faccio solo il video delle foto, non chiedo nulla. Ah, che bello, un giorno spero di... Sarà difficile, ma... Non dico che devo spiegare... Dammi quel saldo che me lo metto io.